Qua tutto dritto, tutto dritto, tutto traffico, casina, sei da davanti, c'è un ponte gigante, siamo in un'isola in mezzo all'oceano Atlantico dove ci sono tantissime rotonde, tantissime, ma infatti là c'è già un'acqua, guarda, siamo a Carnac, cintere di Carnac, bagni, Carnac, piere, tanto piere, cerchiamo le pietre, stiamo cercando le pietre, in mezzo, pecorelle, siamo a Carnac, ci sono più di 1070, sembrano tranquillissime pecorelle, ma dietro c'è un'esterminata di pietre messa lì, senza lo pivo, senza lo pivo, senza lo pivo, e perdermino per i giocchi, aaaaaaaah! e se te lo pivo, piere, tanto piere più, tanto piere più! voglio te che te lo amo, coi! Parliamo la leggenda di居le zombies st哈lman ma dove fanno venire qui dolmen 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 traffi lentes un bel beccano attraversarlo con polvere Qua si sta in piedi. Qua si sta in piedi. Abbiamo la fila. Siamo già interrorizzati. Eccoli, Blair Witch Manier. Ah, Blair Witch Manier. Ma chi vedi dove ti vado? Stacca la luce! Non vedi niente la telecamera! Ma c'è di me? No, la telecamera non vedi niente? Ne ha ancora. Dove sto con me? No. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ah, il campone è profondissimo! Siamo, eh? Leggi! Leggi? Che lingua è scritta? In bretone! Sono scritto lo stesso! E poi già non è contatto. Non vedo come stai prendendo! Oh, sono con il pantone! Sono con i mini! Sono con i mini! Sono con i mini! Oh, mi è colpo! Non è per te! Prego! Guarda i miei piedi adesso! Oh, mi è colpo! Oh, mi è colpo! Ah, se vuole il filmare, è piena! Questa probabilmente non si potrebbe fare, ma forse anche se, perché a me il camperista c'è un cartello qui. Alla prossima!